Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale, è finalmente giunto il momento di svelare il mistero su Antonella Fiordelisi. Ma prima, se ancora non l'hai fatto, clicca su iscriviti per essere sempre aggiornato sulle ultime novità. Dunque, Antonella non è partita per una meta sconosciuta come pensavamo, ma è atterrata davvero nello splendido Sri Lanka. Nell'ultimo aggiornamento, Antonella ci racconta di aver viaggiato da sola e di aver già fatto amicizia con ragazze fantastiche. Tuttavia, non è tutto perfetto, o forse sì. Nonostante abbia acquistato un abbonamento internet, la connessione non è delle migliori. Il supporto dei fan non si è fatto attendere, con numerosi messaggi che giungono ad Antonella, augurandola una fantastica vacanza. Esprimete anche voi la vostra opinione nei commenti qui sotto e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdere neanche un aggiornamento. Grazie e a presto con nuove ed emozionanti avventure!